Cari amici, buona mattina. Come sapete, seguo il progetto MEGA65 da molti anni e sono molto felice di annunciare che c'è un kit DEVKIT disponibile su Trends Electronics. Potete vedere il link sotto questo video. Il kit DEVKIT è disponibile per pre-order. Il vendere sarà in ultimi due mesi di questo anno. Questa è una notizia grande. Nel momento, molti dei 100 kits disponibili sono venduti. Penso che ci sono resti più o meno 10. E questa è un'opportunità di avere un piatto unico di hardware e, ovviamente, di sviluppare per questo. Il progetto MEGA65 sta portando a te una nuova macchina 8-bit nel 2020. E come un fan dell'old Commodore 65, come sapete, sono molto felice per questo. E sono già sviluppato per il pre-series MEGA65. Ho, come sapete, la 15 unità di 20 disponibili. Prendetevi attivati e una buona mattina per tutti. Ora, in Italia, sono le 20.06. Carlo Pastore, del gruppo Retro Commodore. opro, del gruppo Retro Commodore. Al